sul fronte lavorativo sarete in grado di far valere il vostro punto di vista convincendo chiunque riguardo alla validità delle vostre attività pesci, un periodo è un po' da K.O. nonostante questo si invita a non perdere la speranza cercate di essere diplomatici e di far leva sul senso di responsabilità delle persone che avete di fronte per superare questo momento del mondo